Sicurezza a Treviso, la storia del distributore dell'annualese per l'ottava volta in pochi mesi bersaglio dei lardi devastatori. Trenten è deceduto con un cappio al collo, la procura ha chiesto l'autopsia, ma è suicidio l'ipotesi più probabile. Girava da sola per il supermercato tentando di uscire senza pagare le caramelle, già a dieci anni Bebillard in azione, ieri pomeriggio in centro. Scuole parocchiali in crisi e tagli regionali, la fondo di Don Velludo, Zaia si tagli lo stipendio per tenere aperti gli asili veneti. Hanno fatto bene, adesso andiamo a Roma e uccidiamo il Papa, nove anni la frase shock di un alunno che ha sconvolto San Zenone. Faccia a faccia tra Cassugano e sindacati sul bailo, per la CGL bisogna assumere, prima che da cartello chiuso per festività si pasi a chiuso per sciopero. La marca il prossimo anno avrà la sua prima campionaria internazionale, l'annuncio oggi a Santa Lucia che tocca 1355 con la fiera. I voti della cultura e dell'arte trevigiana, l'advio di oggi a Paolo Trevisi, una delle ultime luci della ribata nella marca. E buonasera da Treviso, le nostre notizie come avete sentito dei titoli spaziano, ma oggi, anzi questa sera vogliamo partire parlando di sicurezza, con una storia che per certi versi può essere semplice, per altri invece molto indicativa, quella di un distributore che è arrivato a quota 8 per quanto riguarda le visite dei ladri in zona, e tutte in pochissimo tempo. È già stato definito il distributore dei record, non tanto per il prezzo dei carburanti, quanto per il numero delle visite subite dai ladri. Ben 8 in pochi anni, 3 al distributore vero e proprio, 5 al bar, l'ultima l'altra notte come ci racconta una sconsolata titolare. C'è stata un'altra spaccata l'ennesima volta, sono arrivati, hanno rotto la vetrata della porta e fortunatamente è scattato l'allarme. Ormai la tecnica è consolidata, tagliano questa rete al riparo da occhi indiscreti per non entrare nel raggio delle telecamere, poi da un tombino, sempre lo stesso, tagliano i fili dei lampioni facendo saltare la corrente e l'illuminazione, poi si varia. Dallo sfondamento delle finestre posteriori a quello delle vetrate laterali, fino all'ultima a base di picconate vere e proprie alla porta di vetro dell'ingresso, che oggi è a lato, muta testimone dell'operato dei malviventi, rimasti probabilmente di stucco quando hanno visto le macchinette cambiasoldi già preventivamente svuotate dai gestori e successivamente storditi dall'allarme che ha riempito tutto il locale in pochi secondi di un fumo spesso e irrespirabile. C'è stata una chiamata da parte di qualcuno che passando ha visto il fumo uscire pensando che avesse preso fuoco qualcosa all'interno del locale. Hanno preso paura perché pensavano che essendoci le pompe di benzina all'esterno che prendesse fuoco qualcosa. Probabile che anche i ladri abbiano pensato la stessa cosa visto che sono spariti in pochi secondi. Ora si contano i danni che vanno a sommarsi agli altri delle precedenti visite e a quelli del distributore, con bancomat tagliati col flessibile e pompe devastate. In tutto calcolano i gestori non meno di 50.000 euro e non tanto per il denaro sottratto quanto per i danni causati. Poi concludono, mettici anche l'ansia da furto che ormai arriva ogni anno sotto le feste e il risultato è questo. A parte la preoccupazione è demoralizzata totalmente. Non è bello lavorare in questo sistema. Ecco perché c'era questa storia di copertina, perché non è bello lavorare e vivere in questo sistema. E parliamo sempre di furti, però ci trasferiamo a Cosse Martino perché la notizia è che i furti, anzi le notizie di furto tra i cittadini viaggiano a questo punto attraverso Facebook. Nel caso particolare in via Calzanta, Pieve di Soligo, i ladri hanno agito nella zona condominiale penetrando in un appartamento al piano terra, comodo obiettivo per i banditi che con il buio sono entrati nell'abitazione forzando una porta finestra del giardino. La notizia appunto è che, diciamo così, è stata data in tempo reale ai cittadini con la pagina Facebook Sorvegliamo Pieve di Soligo H24 e quindi diciamo maggiore attenzione in zona con, come si dice, la sorveglianza di prossimità, cioè i cittadini che controllano l'abitazione degli altri cittadini. E a questo punto invece, da Colsa Martino, ci spostiamo invece a Mogliano perché c'è stato quello che è stato definito il giallo di Mogliano ieri sera, ovvero il ritrovamento di un cadavere in via Mameli, uno dei punti critici della città. Era un trentenne, pregiudicato in nazionalità rumeno, era un uomo che era da poco uscito dal carcere e si trovava nella casa dell'ex fidanzata dove in realtà non doveva essere. Proprio per questo e anche a causa di alcune echimosi è stata richiesta l'autopsia, anche se sia da parte degli inquirenti che dal pubblico ministero, titolare dell'indagine qui della procura, l'ipotesi più probabile è il suicidio. Invece adesso ci spostiamo a Treviso perché la notizia, anche questa, è molto semplice, però indicativa. Aveva cercato di passare la cassa del supermercato senza far vedere che in tasca aveva messo alcune confezioni di caramelle. Sarà per l'età circa dieci anni, da sola tra gli scaffali, che per il fare è indifferente, ma ad un addetto della sorveglianza non è sfuggita la bambina poi presa in consegna da una pattuglia delle municipali di Treviso che questa bambina aveva in tasca le caramelle rubate. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio vicino a Piazza Borsa e non fa riflettere soprattutto per l'età. E adesso invece parlando di età andiamo i bambini, i bambini, l'educazione, ma soprattutto i primi anni di vita. E c'è un problema che si trascina da sempre che è quello delle scuole paritarie. L'ultimo affondo arriva oggi da Don Velludo, uno dei volti delle scuole materne di Treviso e non solo. A Zaia vorrei chiedere che rinunciasse per esempio al suo stipendio per pagare i debiti che ha con noi altri, visto che lui ha detto che alle scuole ci tiene. Perché non è possibile che alcune cose siano sempre garantite e altre no. È un affondo senza mezzi termini quello che Don Velludo, coordinatore trevigiano degli asili parrocchiali, riserva al presidente Zaia. A scaldare gli animi la questione dei contributi pubblici, autentica spina nel fianco delle scuole paritarie, parte integrante del Sistema Nazionale dell'Istruzione, ma perennemente a corto di fondi. L'accusa arriva l'indomani del Sì della Commissione Bilancio in Senato a riportare i contributi ministeriali alle paritarie ai livelli di qualche anno fa. Una buona notizia, certo, che rischia però di essere vanificata proprio dalla Regione. Mentre la Regione è ancora latitante perché sta trattenendo soldi del Miur del 2014 e non sta erogando i soldi che lei aveva stanziato del 2015. Per il 2016 dice di non averne. La posta in palio è importante, dice Don Velludo. Stiamo parlando dell'istruzione dei più piccoli. Qui, nella parrocchia di Santa Maria d'Alsile, bambini, genitori e maestre hanno appena celebrato la Giornata Internazionale dei Diritti del Bambino, costruendo un albero su cui sono stati appesi cartellini con i diritti, al dialogo, all'aria pulita, ad avere un buon inizio. Valori che possono essere insegnati e tutelati proprio nella scuola. Sta succedendo una brutta cosa. che noi adulti parliamo di diritti dei bambini, però poi non li garantiamo. E questo contro le tante promesse che Zai anche in campagna elettorale ha detto che le scuole sono importanti. Questo nonostante le tante bugie raccontate da lui e dai suoi assessori durante l'estate, dove hanno detto che i soldi li hanno dati. E invece non li hanno mai dati. Parole sicuramente che faranno clamore, come anche il fatto che bisogna tutelare la scuola, l'insegnamento, perché non accadano cose come quella che è accaduta a San Zenone degli Ezzalini che ci racconta la nostra sede di Bassano. Di certo non se l'aspettava quella maestra di quarta elementare che durante una discussione sugli attentati di Parigi un suo alunno uscisse con una frase sconvolgente «Hanno fatto bene, è giusto quello che hanno fatto, adesso andiamo a Roma e uccideremo il Papa». Tanto che la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzalini, dove è accaduto il fatto, informata dall'insegnante, ha comunicato la vicenda addirittura alla Farnesina per segnalare il possibile pericolo di presenza di integralisti in un comune, San Zenone, dove risiedono numerosi islamici, quasi tutti integrati, non tutti a quanto pare. Di certo la notizia ha creato una certa preoccupazione tra i genitori dei bambini delle elementari e medie del Paese. Il sindaco Luigi Mazzaro ha confermato la vicenda ma ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Quello che fa riflettere è che siano proprio giovani, giovanissimi nel caso di San Zenone, che esprimano frasi agghiaccianti e tengano comportamenti che vanno al di là del rispetto e dell'integrazione. E proprio sull'integrazione, sulla sicurezza, abbiamo parlato di sicurezza all'inizio, parliamo di integrazione adesso, è fissato il nostro TG di linea aperta. Dopo la strage di Parigi, quali rischi per la marca? Come sempre leggeremo al termine del telegiornale i vostri suggerimenti che ci mandate attraverso gli sms, attraverso le mail o anche attraverso la pagina Facebook e gli spunti di riflessione. Cambiamo pagina e apriamo quella cittadina perché oggi c'è stato il famoso, diciamo il tanto aspettato faccia a faccia tra il vice sindaco Roberto Grigoletto e i sindacati sulla questione Bailo. Sentiamo com'è andata. Alla fine, il faccia a faccia c'è stato questa mattina a Casugana tra sindacato e vice sindaco Grigoletto su turni e impiegati al nuovo Bailo. Rappresentanti dei lavori che sono arrivati alla dirigenza dopo l'assemblea infuocata di ieri mattina. I dipendenti hanno tenuto a ribadire che per loro la flessibilità non è un problema, che per loro lavorare in una sede o in un'altra non è un problema. Quello che esittimamente chiedono è di essere messi nelle condizioni di lavorare dentro un orario di lavoro certo, dentro una programmazione certa, rispettando anche l'alternanza nei turni che gli verranno proposti. Perché a conti fatti la coperta è corta e chi rischia di fare i salti mortali sono i dipendenti, ha sottolineato il sindacato oggi a Casugana. Abbiamo richiesto concretamente di avere i dati su quanto personale serve, su come si intende riorganizzarlo, su come si intende valorizzare un museo che è qualcosa di importante per una città di Treviso. Abbiamo anche detto che per noi non è un problema estendere al massimo gli orari con aperture anche serali se serve nei momenti di maggiore attrazione turistica. Infatti il problema che sta emergendo sarebbero gli straordinari, segnale che inevitabilmente fa emergere il bisogno di nuove assunzioni. Per evitare poi di essere smentito, noi abbiamo i dati di orari straordinari che ci hanno fornito i lavoratori e diciamo insomma che sono ben oltre quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ecco, vorremmo evitare che dentro un'organizzazione del lavoro questo diventasse la forma ordinaria. Sindacato che ha già indicato al vice sindaco Grigoletto anche la possibile soluzione per far funzionare adeguatamente il bailo. Si rivolgono al governo. Siccome, insisto, Dario Franceschini è venuto qua a dire che l'apertura del museo è un qualcosa di fondamentale per questa città, gli si spieghi che per far funzionare i beni culturali, i musei, le soluzioni positive che ci sono nelle città servono le risorse. Ora è tutto rinviato a giovedì prossimo quando nuovamente il vice sindaco Grigoletto, il direttore del bailo Luppi e gli altri dirigenti dovranno dare risposte certe ai sindacati prima che dal chiuso per festività si passi al chiuso per sciopero. E non è l'unica polemica in corso, diciamo così, a Treviso. Un'altra riguarda gli autobus e le corriere, praticamente la gestione di MOM. Perché questa mattina si è tenuta nella sede della provincia l'assemblea dei soci della MOM, quindi anche di Treviso, del Comune di Treviso e di altri comuni, per deliberare in merito all'acquisizione delle attività della CTM Servizi. Un'assemblea che si è conclusa con nulla di fatto, ma con tanti arrabbiati. Prima tra tutti l'assessore alle risorse economiche di Treviso, Alessandra Gazzola, che dice Muraro decide cosa vuol fare da grande, non è più tollerabile questo suo atteggiamento istruzionistico in assemblea MOM. Oggi è stata la riprova del fatto che Muraro non è più in grado di ricoprire il ruolo di presidente della provincia e di prendere decisioni importanti nelle assemblee dove rappresenta l'ente in qualità di socio di maggioranza. Perché, appunto, si è concluso con nulla di fatto. La risposta del presidente Muraro è questa. Tutta la documentazione relativa alla questione CTM mi è arrivata poco tempo fa. Si tratta di una questione delicata che riguarda il patrimonio della società. Quindi, d'accordo col sindaco di Castelfranco, che è direttamente interessato, abbiamo deciso di posticipare per maggiori approfondimenti. E la risposta all'assessore Gazzola è stata ribadisco che non prendiamo lezioni da nessuno, che anzi si tratta di una decisione responsabile che vorrebbe porre un'attenta analisi in una questione delicata, nell'interesse della società stessa, per la quale non ho bisogno di certo di ricordare quanto mi sono speso sin dall'inizio. Decisione, peraltro, condivisa dal 70% degli azionisti della Momo. Quindi, un'altra polemica, niente male. E adesso, invece, parliamo sempre del presidente Muraro, perché oggi è andato ad inaugurare la scuola Planck a una settimana esatta da quanto è successo nella stazione Cina di Olmi. Un milione e 376 mila euro l'intervento economico. In questi momenti sono così difficili per l'economia, ma però, delle nostre casse, ma però, insomma, l'intervento abbiamo finanziato l'opera e adesso la inauguriamo. Taglio del nastro per il prolungamento dell'ala nord dell'Istituto Max Planck, costruito tra il 1994 e il 1996. Sono state realizzate dieci nuove aule per circa 290 studenti, disposte su due piani. Un taglio del nastro fissato giovedì scorso, poi cancellato dopo la tragedia alla stazione Cina di Olmi. Abbiamo voluto inaugurare oggi anche a ricordo di Luca, perché dobbiamo sempre ricordare che era un allunno del Planck e questa inaugurazione darà sicuramente delle garanzie e delle certezze per quanto riguarda il futuro dei nostri giovani trevigiani, soprattutto in settore importante, qual è quello della tecnica, l'applicazione della tecnica, la manualità, che significa dare prospettive di lavoro a questi ragazzi. Ricordando che questo è un istituto fra i migliori in assoluto a livello provinziale, dove coloro che studiano in questo luogo trovano poi lavoro direttamente nelle nostre imprese, nelle nostre aziende. Chissà se anche a Treviso partirà una scuola di meteorologia. Il nostro comandante, il nostro generale Giancarlo Ionicelli, buonasera. Buonasera a tutti. Secondo lei potrebbe essere un posto di lavoro? Beh, è uno dei misteri più diffusi che si vanno diffondendo, quindi per carità, però bisogna partire dall'università intanto. Intanto prendo invece delle prospettive per questo fine settimana. finalmente dopo più di due settimane una situazione si è rotta di alta pressione che ci ha portato, come non accadeva da anni, nebbia diffusa per un lunghissimo periodo. Ora si attiva un flusso freddo nelle prossime ore, un sistema perturbato, proprio freddo, quindi con caratteristiche di aria fredda, salirà sulle Alpi e scenderà poi in pianura, su di noi. e questo sta a significare la parte più avanzata di questo flusso freddo che continuerà poi nei giorni, ma gli effetti si avranno proprio nelle prossime ore. Quindi abbiamo su tutta la nostra regione, sulla marca treligiana, per domani, già dall'inizio, un cielo molto nuvoloso coperto, poi avremo delle precipitazioni nella seconda parte della giornata, quindi sono precipitazioni diffuse, non intense, anche finalmente a carattere nevoso, al di sopra dei 1100-1200 metri, ecco la prima neve vera. Questo sistema perturbato dà il primo segnale dell'inverno ormai alle porte. Per domenica, ecco, già è scorso il sistema perturbato, darà effetti addirittura maggiori sulle regioni centro-meridionali, dopo. Da noi invece si apre un po' il cielo, una nuvolosità irregolare, a tratti anche intense inizialmente, poi abbiamo una variabilità, ecco, non ci dovrebbero essere più precipitazioni. Attenzione, ecco, le temperature caleranno, domani 9 le minime, 12 le massime, per domani 6 le minime, 9 le massime, quindi c'è un buon calo, non così come si annunciava, come annunciavano, ma siamo al solito discorso, alla solita polemica, che si sparano dati. Una cosa importante da dire, per domani, ecco, i venti, i venti potranno essere anche intensi temporaneamente, quindi 20, 30, no, di 50, 60 chilometri, avremo delle raffiche, ecco, temporaneamente, anche per domenica, ma in modo molto più attenuato, abbiamo questa, proprio questi venti da nord, che attiveranno, naturalmente, più intensamente sul mare, quindi, sull'alto atriatico, per finire, appunto, il mare, è previsto, naturalmente, mosso, molto mosso. Senta, quanto conta l'esperienza in queste cose, e quanto la lettura delle carte, cioè la tecnologia? Come in tutto, l'esperienza, conta, è l'esperienza della FAE, con tanti anni, però, quanti sono i suoi? Ma io, ho iniziato a fare meteorologia, dal 72, quanti anni? Sono tanti, tanti anni, ma ci manteniamo, sì, sempre interessante, visto le previsioni, che vengono sempre azzeccate, grazie al nostro generale, e adesso noi passiamo, a parlare di fiere, perché? Perché Santa Lucia, dal prossimo anno, diventa internazionale. Tornano puntuali, come ogni inverno, le tradizionali fiere, di Santa Lucia di Piave, ma questa volta, sarà l'ultima, niente paura, l'edizione nazionale delle fiere, lascerà il posto, dal 2016, ad una rinnovata manifestazione, dal carattere internazionale, riconoscimento lungamente inseguito, e finalmente ottenuto. Respiro internazionale, peraltro, già certificato dai numeri, mille professionisti, 400 aziende presenti, di una fiera, che vuole essere punto di riferimento, per l'agricoltura del nord-est. La sfida, ricordano gli organizzatori, sta nel superare, i molti campanilismi, che hanno più volte impedito, la nascita di un vero e proprio ente fieristico trevigiano. Essere punto di incontro con il nord-est, quindi verso l'Austria, la Slovenia, l'Ungheria, la Croazia, e perché no, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, e la Polonia, cioè questo è il nostro asse di sviluppo. Asse di sviluppo ambizioso, Alpe Adria, il suo nome, 40 milioni di abitanti, in cui il Veneto può giocare un ruolo chiave. Concorrenti? La fiera di Verona non lo è, assicura il Presidente. No, noi non pensiamo assolutamente di essere in concorrenza con nessuno, noi pensiamo di, perché la concorrenza avviene quando si fanno le stesse cose, e noi non facciamo le stesse cose, siamo in un bacino d'utenza completamente diverso. Un mondo dell'agricoltura, quello in vetrina a Santa Lucia di Piave, attraversato come non mai da luci e ombre. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla filiera del latte, dove i segnali di malessere di produttori sono allarmanti. C'è un aumento della produzione del latte, non solo a livello europeo, ma a livello mondiale, e contemporaneamente assistiamo anche a un calo di consumi molto marcato, specialmente nei paesi del sud-est asiatico, in Cina. E adesso andiamo invece velocemente, visto che si parla di quote latte, di latte, eccetera, a sentire che cosa ci racconta il nostro Angelo Squizzato con la nuova puntata di agricoltura. Sì, buonasera a tutti, stiamo terminando adesso di montare la puntata di domani, domenica di Agricoltura Veneta. Vi parleremo di radicchi, ci sono state due brinate che hanno laureato i radicchi tardivi di Treviso, ICP. Sì, intanto c'è stata l'annuale manifestazione con la quale si è dato il via alla stagione del radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco, il radicchio d'oro. Sono arrivati Rotella Fiore di Castelfranco, Veneto, con Miss Italia Alice Sabatini, protagonista della vita culturale, dello sport, della televisione, dello spettacolo, del giornalismo. Una novità quest'anno, il premio speciale alla sostenibilità e all'innovazione che è stato consegnato a Coppa Italia ed è stato ritirato da Pino Iasella, responsabile nazionale del settore ortofrutta. Si è inteso premiare chi lavora per verdura e frutta sane coltivate in territori salobri, con buone pratiche agricole come appunto i radicchi, i GP di Treviso e Castelfranco che vi mostreremo e che sono presentati da Opo Veneto. Vi parleremo quindi della manifestazione protesta degli allevatori di vacche da latte organizzata a Padova da CIA e Confagricultura. Dicono gli allevatori basta al latte, pagato una miseria. E poi tante, tante notizie. Appuntamento a domani e domenica con l'Agricoltura Veneta e buona serata a tutti. E adesso andiamo a vedere l'ultimo saluto a una delle luci della ribalta di Treviso. Paolo Trevisi. I tanti volti del teatro e della cultura trevigiana non sono mancati all'ultimo saluto per Paolo Trevisi oggi pomeriggio nella chiesa di Sant'Agnese. E forse non a caso davanti al Museo Bailo uno degli scrigni dove è custodita l'arte trevigiana. La stessa che Paolo Trevisi ha amato per tutta la vita portandola con il suo fare nei teatri dove ha recitato, dove è stato regista, dove ha diretto in quella che ha sempre definito un'avventura meravigliosa che è la vita. che si è spento l'altro giorno a 74 anni vissuti fino all'ultimo con quel lavoro dedicato all'ultimo concerto per Del Monaco che ha prodotto e consegnato al comune di Villorba appena prima dell'ultimo respiro. Con lui si spegne un'altra delle luci della ribalta del palcoscenico della città che difficilmente qualcun altro potrà sostituire per brillantezza e luminosità. Paolo era una persona straordinariamente generosa straordinariamente disponibile era anche una persona molto intelligente e di grande cultura selezionava molto le sue conoscenze le cose che faceva gli amici ed essergli stato amico è stato per me veramente un grande onore. Ma a noi piace ricordarlo così nella sua ultima apparizione dedicata a Mario Del Monaco con quella verve pungente che sapeva stimolare il popolo del Minovao con Matar. Una caratteristica dei trevigiani questa sono fatti male sono fatti così loro uno diventa importante e basta non si ovarda più. Dovremmo imparare il Corano? È il titolo provocatorio della puntata di Focus di questa sera in onda dalle 21.05 si parlerà ancora di terrorismo islamico e di profughi in studio con il direttore Luigi Bacialli gli ospiti Daniele Stivali Cristiano Cozzari Federico D'Incanto Nella Tocchetto Elena Larocca Marco Sitran Damiano Gotardello e Valeria Mantovan come sempre aspettiamo numerosi vostri sms e con questo è tutto da Treviso e dalla Marca grazie a tutti voi per l'attenzione e soprattutto per aver scelto il TG Treviso buonasera grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti